Ora noi non possiamo rimanere nell'isolamento, io parlo sempre del Molise, noi abbiamo la necessità di entrare nei circuiti nazionali, non possiamo rimanere, siamo pronti per far parte della grande famiglia italiana molto più di prima e molto meglio di prima. La pandemia ci ha insegnato che l'isolamento del territorio, la bassa densità demografica possono essere una carta da giocare, noi ci dobbiamo giocare carte che abbiamo, non possiamo inventare carte che non abbiamo perché le carte che non abbiamo gli altri le hanno costruite nei secoli, noi invece abbiamo altre carte che fanno parte della nostra cultura e del nostro patrimonio e quelle ci dobbiamo giocare. Potremmo ripartire da qui sollecitando il governo nazionale ma direi anche l'Unione Europea affinché si passi da un isolamento, attenzione all'aggettivo passivo come è stato finora, ad un isolamento attivo di queste zone coniugando lo sviluppo con la sostenibilità e questa è la carta che noi abbiamo da giocare caro Sergio, cari amici. Il futuro sta nell'allargamento del focus della politica delle aree metropolitane e intermedie e a quelle periferiche. È chiaro che il turismo non può essere l'unico paradigma nella programmazione degli interventi. Ci vogliono politiche attive vere nel campo infrastrutturale e in quello dei servizi in una nuova vision di integrazione e pari opportunità tra le varie aree geografiche del paese. Integrazione è la parola magica, coesione è l'altra parola magica.